quando ho letto questo brano mi è venuta subito in mente questa immagine soprattutto quel dito che matteo fa su se stesso che levi fa su se stesso e io oggi mi sento chiamato può andare oltre le apparenze e questo quello che mi ha scaturito il vangelo oggi su cui ho riflettuto perché Gesù incontra levi stava facendo il suo lavoro stava riscuotendo le tasse e gli dice seguimi e levi quindi si sente chiamato risponde a una chiamata e subito lo invita a casa sua mentre i farisei iniziano a mormorare non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati e questa è la risposta e allora mi sono chiesta ma so andare oltre le apparenze può essere uno sguardo un cambiare prospettiva a cambiarmi a cambiare il mio modo di fare questo è l'impegno di oggi